Siamo stati molto fortunati con il tempo quest'oggi perché fino a ieri sera qui ha piovuto e grandinato. Il percorso quindi oggi con il sole si è un po' asciugato e tutti hanno potuto correre tranquilli. Abbiamo avuto circa oltre 200 iscritti e da notare che di questi più di 30 erano zoldani iscritti all'Atletica Zoldo che questo è un record per noi di partecipazione. Tra questi ci sono anche alcuni atleti di punta che hanno fatto proprio molto bene.